Civil Week 2024, siamo al Parco Trotter in compagnia di Elena. Sì, buongiorno a tutti. Allora, io faccio parte, insieme ad altre due soci che sono psicologhe, due sono psicologhe dello sport, io sono mediatrice, facciamo parte di questa impresa sociale che si chiama One Hour, che ha l'obiettivo, attraverso lo sport, il veicolo sportivo, di portare impatto sociale, quindi di alimentare e di sostenere tutte quelle ASD che attraverso lo sport muovono l'aspetto educativo, non solo performativo, portiamo il benessere, il benessere psicologico, il benessere psicocorporeo, lavoriamo in rete, infatti se voi vi girate un attimo e guardate verso l'area dell'ex piscina, ci sono una serie di nostri partner, c'è il calcio, Minerva, che è una squadra femminile, che ha una parte di calcio integrato con ragazzi disabili e non, in mezzo c'è il tennis in carrozzina, wheelchair tennis, che si occupa di tennis integrato, subito dopo abbiamo CS Free Basket, che fa basket in quest'area con ragazzi di tutte le etnie e di tutte le età. In fondo abbiamo Run Baby Run, che si occupa di rugby, psicomotricità per bambini fino agli 8 anni, e qui abbiamo un tavolo con tutte le iniziative che facciamo come One Hour, o che facciamo insieme alla rete, la forza di One Hour è la forza della rete, se non ci fosse questa rete noi non saremmo così. E quindi questa è la seconda edizione a cui partecipiamo, della Festa dei Popoli, l'idea è quella di fare in modo che lo sport sia accessibile a tutti e a tutte, che possa essere un luogo inclusivo, che come sapete adesso è diventato un diritto all'interno della Costituzione, e anche fare in modo che, per esempio, noi faremo un Summer Camp, l'anno scorso non abbiamo fatto, era la prima edizione che facevamo, abbiamo insieme a tutti i nostri partner avuto 190 gratuità. È stata un'esperienza splendida, in collaborazione con le associazioni, anche della rete QB dei territori, Padova, Loreto, Monza, con i servizi sociali del Comune di Milano, di zona, e quest'anno replicheremo, quindi insomma, per noi è veramente... e replicheremo con tutti i nostri partner, quindi anche la qualità dei servizi che noi offriamo è alta, pur cercando di fare in modo che sia accessibile a tutti. Che lavoro meraviglioso, complimenti, buona Civil Week! Grazie mille, a voi buon lavoro!